Goku contro Recon. In questo episodio Goku decide di scendere sul campo di battaglia per sfidare Recon dopo aver dato i fagioli magici che hanno il potere di rigenerare completamente il guerriero anche dopo aver riportato ferite mortali. Con grande stupore scoprono che qualcosa in Goku è cambiato tant'è che Vegeta arriva perfino a pensare che si sia trasformato nel leggendario Super Saiyan. Recon illudendosi di poterlo vincere con facilità come ha fatto con il resto della sua squadra si rende conto di aver fallito miseramente dopo che è stato messo fuori combattimento da Goku. Grazie. 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 Grazie.